E finalmente ci siamo, Black Friday 2022, una serie di giorni in cui tantissimi prodotti di elettronica e non solo andranno in offerta con promozioni lampo, ribassi, minimi storici e molto altro ancora. Ovviamente HDblog sarà come sempre protagonista cercandovi di dare tutte le informazioni migliori in tempo reale, i migliori sconti, le migliori offerte lampo e ovviamente farvi fare i migliori acquisti. Ma quindi quando inizia ufficialmente questo Black Friday 2022? Ecco una risposta che potrebbe non essere scontata per molti, infatti la giornata di start del Black Friday 2022 sarà venerdì 18 novembre, dunque tra pochissimi giorni o meglio nella notte tra il giovedì 17 e il venerdì 18 vi consigliamo di rimanere sintonizzati su hdblog.it dove sarà aperta una vera e propria live, come ormai facciamo da anni, in cui vi segnaleremo tutti gli sconti che partiranno proprio dalla mezzanotte. Ci sarà infatti una settimana di warm up, chiamiamolo così, di avvicinamento al vero giorno del Black Friday 2022 che sarà il venerdì successivo, quindi il venerdì 25 novembre o meglio nella notte tra il 24 e il 25 novembre dove sarà la vera e propria giornata del Black Friday. Ma attenzione perché moltissimi degli sconti che troverete durante il Black Friday saranno già attivi proprio a partire dal 18 novembre, dal venerdì precedente. Ovviamente ci saranno delle novità, ci saranno dei ribassi, ci saranno ulteriori offerti durante il giorno del vero Black Friday, però insomma davvero una settimana intera dove seguire hdblog. Ma non finirci qui perché poi lunedì il 28 di novembre sarà Cyber Monday, ovvero il giorno in cui si concentreranno maggiormente le offerte di elettronica di consumo perché sì il Black Friday vede tantissimi sconti, ovviamente nel nostro settore molti, ma il Cyber Monday è il giorno dedicato alla tecnologia, quindi ci potrebbero essere ulteriori prodotti che vanno in sconto che fino a quel momento non sono andati in sconto. Ovviamente quali sono i consigli di hdblog? Vi lascio a Davide e Matteo che vi daranno qualche dritta, ma prima voglio specificare una cosa sugli sconti. Innanzitutto hdblog vi metterà a disposizione una personalizzazione del sito dove troverete dei widget in cui sono inseriti le offerte, i prodotti più significativi, più importanti, con lo sconto maggiore. Vi ricordo però che hdblog inserisce il prezzo di riferimento medio degli ultimi tre mesi, dunque non vedrete mai sconti del 40, 50, 70% perché non inseriamo mai il prezzo di listino perché non è più indicativo, non è più reale perché magari quei prodotti sono usciti da sei mesi o magari da un anno. Dunque inseriamo il prezzo medio online degli ultimi tre mesi, questo per farvi avere un'idea reale dello sconto di quel prodotto. Dunque qual è lo sconto buono da prendere al volo che trovate su hdblog? Ecco tra i 10 e il 20% vuol dire che quel prodotto ha un bello sconto, è scontato bene ed è il prezzo migliore rispetto agli ultimi tre mesi e comunque rispetto a sempre. Ovviamente ci possono essere dei prodotti che avranno degli sconti anche maggiori, 30-40%, saranno meno, saranno le offerte wow e tendenzialmente saranno i prodotti a marchio Amazon, quindi la Fire TV, gli Eco, tutti i prodotti dell'ecosistema Alexa potrebbero avere degli sconti anche superiori. Sconti che magari abbiamo già visto durante il Prime Day perché quest'anno il Prime Day è stato doppio, a luglio e a ottobre, dunque potrebbe essere che alcuni prodotti che abbiamo visto in sconto ai minimi storici, a prezzi davvero interessanti al Prime Day, possono essere ripetuti al Black Friday 2022. Ricordiamo che infatti siamo in un periodo ancora di recessione dove la componente tecnologia è ancora in forte affanno per una problematica legata banalmente alla produzione. Dunque, non aspettatevi i vostri prodotti preferiti al 50% di sconto, ma inserite intanto una lista degli acquisti, dei desideri, pensate a quello che volete comprare. Su HDblog trovate sicuramente lo staff pronto a darvi consigli, ma soprattutto con prezzi e offerte reali. Se vedete uno sconto su HDblog, quello sconto è reale. Se vedete un'offerta, un articolo che parla di promozioni, quelle promozioni sono reali, altrimenti non le pubblicheremo. Ovviamente, maggiori informazioni nel link in descrizione, ma adesso vi lascio a Matteo e Davide con alcuni trucchi e suggerimenti. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, come ben saprete tra poco è il momento del Black Friday e allora abbiamo pensato di fare questo video in cui vi andiamo a raccontare un po' quelli che secondo noi sono dei prodotti interessanti, che già vanno spesso in offerta durante l'anno e che se dovessero andare in offerta anche in occasione di questo Black Friday, possono diventare probabilmente ancora più attraenti e potrebbe essere il momento giusto per acquistarli. Quelli da tenere d'occhio, insomma. Quelli da tenere d'occhio, esatto. Quindi non perdiamoci in altre chiacchiere e andiamo subito a vederli un po'. Allora comincio io parlandovi dei notebook. Ho diviso, diciamo, la mia selezione in 4-5 categorie, in modo da andare a coprire un po' tutte quelle che sono sia le fasce di prezzo che, diciamo, le esigenze della maggior parte delle persone. E parto subito con i Huawei Matebook o gli Honor Magicbook, che sono molto molto simili tra loro. È uno qua di qualche anno, ha la sua età, ma fa ancora il suo lavoro molto bene. Diciamo, potremmo definirle cugine, questi due produttori, anche se ormai si sono scissi, diciamo, in maniera definitiva, ma i prodotti restano comunque molto simili e sono anche decisamente validi. Soprattutto nella fascia di prezzo in cui si presentano. Dovete tener conto soprattutto dei Huawei Matebook 14, 16 e degli Honor Magicbook, sempre 14, 16, ma anche dei Matebook D, perché sono altrettanto validi e anche quelli hanno sempre un prezzo abbastanza interessante. Parliamo di prodotti in una fascia di prezzo che va dai 500, 600 fino ai 700 euro, e sono prodotti che vanno bene per tutti. Cioè, per tutte le persone che hanno bisogno di un notebook per svolgere le attività quotidiane. Mondo generico. Esatto. Magari i figli hanno bisogno di un notebook per la scuola, oppure comunque un prodotto che può sostituire il vecchio desktop di casa senza farlo rimpiangere. Ovviamente non sono notebook per la produttività estrema, per la multimedialità estrema, però sono prodotti che comunque hanno un prezzo giusto e vanno bene abbastanza per tutti. Ecco, questi sono prodotti che vanno spessissimo in offerta durante l'anno e credo proprio andranno in offerta anche per questo Black Friday, quindi assolutamente teneteli d'occhio. Passiamo alla soluzione che costa più o meno uguale, sempre tra i 500 e i 600 euro, ma è un prodotto convertibile, quindi un flip. Permette di ruotare il display a 360 gradi, il display touch, quindi lo potete usare anche come un tablet piegandolo su se stesso. Io non sono un grande amante di questi, però so che ci sono persone a cui... Esatto, esatto. Dipende tanto dall'esigenza. Neanche io preferisco separare i prodotti, comprarmi un tablet e avere poi il notebook normale, ma se qualcuno non ha magari il budget per entrambi i prodotti e pensa che comunque può essere utile utilizzare magari con un pennino per prendere quattro appunti o cose così, può essere una soluzione. Ma queste ne vedono molti in giro, quindi sicuramente è un buon fatto che piace. E sto parlando dell'Asus Vivobook Flip da 14 pollici. È un prodotto che su Amazon adesso sta tra i 500 e i 600 euro, con un Ryzen 5 5500U, quindi comunque un buon processore che ti permette di fare tutte le operazioni di cui abbiamo parlato prima, quindi navigare, gestire la mail, insomma tutte le cose più normali, senza problemi. Un altro prodotto che se va in offerta, secondo me, è assolutamente interessantissimo. Saliamo un po' di prezzo, invece, con un notebook che all'apparenza è un notebook normalissimo, non nasconde comunque una scheda tecnica abbastanza buona. Mi parlo dell'MSI Prestige 14, che ha un Cori 7 di ultima generazione, la scheda grafica integrata, però ha 16 giga di RAM, insomma un notebook che già ti permette di fare qualcosina in più, soprattutto per via di questo processore abbastanza potente e che quindi ti permette di compiere qualche operazione leggermente più complessa. Ecco, non siamo proprio alla base base, ma già ti permette di avere qualche... Posso spezzare una lancia in favore di quelle che hanno la scheda grafica integrata? Cioè le schede grafiche integrate di adesso, non sono quelle di qualche anno fa. Esatto, infatti questo comunque... Non aspettatevi un computer piantato. Questo comunque è un Iris Xe, quindi diciamo che ci fai tranquillamente tutto, ha anche giochi chiari 1080p con i giochi più semplici, volendo, non è che proprio... Esatto, e ha i suoi pro, perché non avere una scheda grafica... Consuma molto meno, consuma molto meno e quindi la durata della batteria è molto superiore. Qui siamo intorno ai 1000€, 999, è già in offerta adesso, se scende ulteriormente, assolutamente da prendere. Poi, in realtà, ho due categorie molto specifiche. Quindi, un notebook da gaming, e qui non posso che parlare del Legion 5 Pro. C'è la recensione sul sito, l'ho fatta due o tre settimane fa. È un notebook che è pazzesco, veramente. Per chi è un pochino nerd come noi, riesce a sfruttare quello che è il suo cavallo di battaglia, quindi la scheda grafica dedicata, e in questo caso è fondamentale se lo dovete usare per giocare. Abbiamo spezzato una lancia a favore delle integrate, ma qui va spezzata a favore delle dedicate, perché se volete giocare non ci sono alternative. Questo Legion 5 Pro ha un Core i7-12700H, quindi, peraltro, un prodotto con un TDP, cioè un processore con un TDP molto alto, quindi anche lato CPU, abbiamo delle prestazioni fenomenali. L'RTX 3070, dicevo, la particolarità di questo notebook è che riesce a sfruttare questa scheda grafica al massimo. Cioè, proprio, oltre addirittura a quelle che sono, diciamo... Senza prendere fuoco, diciamo. Oltre a quelle che sono le specifiche dichiarate da Nvidia, addirittura, perché la spinge anche oltre senza prendere fuoco, perché comunque riesce ad avere una gestione termica davvero ottimale. Quindi, se avete bisogno di un notebook per giocare, siete disposti a spendere una cifra... Quanto costa? Questo sta adesso a 1.999. Certo, è un prodotto diverso. È un prodotto, cioè, a livello nettamente superiore, certo, a livello di prestazione. Può sostituire anche un computer fisso. Può tranquillamente sostituire un computer fisso, ovviamente, sempre con il dovuto rapporto prestazionale, però comunque è un prodotto importantissimo dal punto di vista delle prestazioni, quindi 2.000 euro li vale già così, se poi va sotto ancora, assolutamente ci sta. E poi, invece, un notebook per creator. Ok, quindi per chi lavora tanto con i contenuti multimediali, video, foto, musica anche, non è da sottovalutare, ma c'è tanta gente che anche crea musica, quindi banalmente può essere utile. Ed è l'Asus StudioBook. Ce ne sono diverse versioni, ok? Costicchiano, perché sono prodotti molto, comunque, molto verticali, molto specifici. Hanno alcune soluzioni interessanti, come l'Asus Dial, che è la rotella, che vi permette di assegnargli alcuni comandi particolari, quindi vi permette di avere delle shortcut e dei controlli più rapidi per alcuni parametri, per alcune cose. È un prodotto, anche qui, con un processore ad alte prestazioni, TDP elevato, siamo sempre processori H, sia per quello che riguarda AMD, che per quello che riguarda Intel. Il prezzo, sempre intorno ai 2.000 euro, poi, a seconda del modello e della configurazione, si può, diciamo, c'è una forbice che va magari dai 1.800 ai 2.300 ai 2.300 ai 2.400, però, anche qui, se avete bisogno di un prodotto di questo tipo, se dovete comunque comprarlo, noi ve lo consigliamo, e se vai in offerta, probabilmente è il momento buono per risparmiare qualcosina. E, infine, chiudo con un notebook che potrei definire, diciamo, tutto fare. Cioè, è un prodotto che va bene per il lavoro di tutti i giorni, va bene se dovete fare qualcosa in più, anche a livello, appunto, professionale, perché comunque ha una scheda tecnica con delle caratteristiche importanti, ed è lo Yoga Slim 7i Pro X. Cioè, questi produttori comunque devono smettere i tasti nomi, che ci vuole un papiro per... cioè, è una cosa insostenibile. Sbaglio, questo è anche molto bellino. Sì, è un Lenovo della serie Yoga Slim, per cui sottile, abbastanza leggero, ovviamente sempre considerando che ha una scogga interamente in alluminio, e dentro ci sono delle robe interessantine, perché ha il 12700H, che è lo stesso processore del Legion, di cui vi ho parlato poco fa, e una scheda dedicata, perché ha una RTX 3050, con 16GB di RAM e 512GB di storage. Buon compromesso. Il tutto ha 1700€, che per questa roba che c'è dentro, considerato che è sottile, abbastanza leggero, ha un bellissimo display 3K, touch, andrebbe benissimo per me. Un prodotto che a noi farebbe assolutamente comodo. A 1700€ è già un prezzo, secondo me, interessante, anche perché il listino è leggermente più alto, ma è già scontato sul sito Lenovo, se poi cala ancora... Sì, poi tra l'altro, io voglio spezzare una lancia a favore dei notebook anche belli curati. E questo è molto curato. Comunque, a me personalmente piace avere un notebook che sia bellino, cioè questo l'avevo scelto anche per quel motivo. Sì, è molto curato anche esteticamente. Bene, questi erano i miei consigli per quello che riguarda la parte di notebook. In generale, comunque, se dovete acquistare un notebook, questi sono i nostri consigli. Se vedete altri prodotti con le medesime caratteristiche, ad un prezzo altrettanto conveniente, se non addirittura inferiore, comunque diciamo che più o meno al livello sarà quello lì. Non è che andiamo tanto lontani. Se invece ancora volete approfondire ancora di più la ricerca del vostro prodotto, nei giorni scorsi ho pubblicato proprio su HDblog, vi lascio il link in descrizione, un articolo nel quale vi do dei consigli su quali sono le cose da guardare quando dovete acquistare un notebook. Quindi, basandovi su quei consigli lì, comunque, durante il Black Friday, potete cercare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Adesso lascio la palla a Matteo, che ci parla invece un pochino degli smartphone. Altra categoria sicuramente interessante. Allora, gli smartphone sono tantissimi, sono ovviamente molto validi. Abbiamo questo vantaggio che ultimamente gli smartphone più o meno vanno tutti bene, che è vero, specialmente sulla fascia medio-alta e fascia media. Se andate sulla fascia bassa, invece, dovete stare un pochino più attenti. Io ho fatto una selezione di alcuni prodotti che per alcune dinamiche di mercato, come vi dicevo, possono essere interessanti. Sicuramente partiamo dal mondo Samsung, perché Samsung ha già cominciato a fare offerte per il Black Friday e ci sono tre prodotti, che sono lo Z Flip 4, che è il pieghevole. Se volete acquistare un pieghevole Z Flip 4, secondo me è perfetto per entrare in quel mondo lì. Si trova già attorno adesso ai 750 euro. Se dovesse andare in sconto o magari in bundle con qualcosa durante il Black Friday, è da prendere. Deve piacervi chiaramente la categoria pieghevoli. Altrimenti tenete d'occhio anche S22 Ultra ed S22 Plus, che secondo me sono quelli più papabili per andare in sconto. S22 Ultra, prima del Black Friday, era comunque in offerta attorno ai 1000 euro sul sito ufficiale di Samsung. Tenete conto che se il sito ufficiale di Samsung fa gli sconti, poi gli altri gli vanno dietro. Esatto. Sono prodotti, ovviamente, Samsung tot di gamma per andare sul sicuro, per stare tranquilli, completissimi dal punto di vista tecnico. Quindi, insomma, li conosciamo. Ecco, potrebbe essere il momento giusto. Poi c'è un altro telefono, anzi, un altro paio di telefoni che ultimamente stanno andando molto per la maggiore, soprattutto nelle community un pochino più di appassionati, che sono l'Edge 30 Fusion e l'Edge 30 Ultra di Motorola. Che hai provato di recente, tu, tra l'altro. Esatto. Trovate le recensioni tutte sul sito, ma in generale tutti i prodotti di cui abbiamo parlato, meno male ci sono. Due prodotti che funzionano molto bene, che sono completi e che hanno già ricevuto delle grosse offerte. L'Edge 30 Ultra, soprattutto, è partito da 999 euro, si riesce a trovare a 700 o qualcosa. Che a tutti gli effetti è un top di gamma. È un top di gamma. Che a quel prezzo lì non gli manca veramente niente. Non c'è nient'altro di paragonabile. E l'Edge 30 Fusion, invece, ha un prezzo di listino un pochetto più alto, però potrebbe essere un buon candidato per andare in offerta. Motorola è super attiva ultimamente e, secondo me, questi sono telefoni da tenere d'occhio. Magari non è detto che li mettano in offerta a Amazon, però nei vari store, tenete conto che Black Friday, alla fine, insomma... Esatto, noi adesso abbiamo citato Amazon perché comunque è un posto dove trovi un po' tutto raccolto, però in realtà anche sui siti dei produttori stessi o comunque anche gli altri marketplace, Miri, i vari Miri, i vari Miri, i vari Euro, Troni, chi più ne ha più ne metta, tutti fanno delle offerte. Quindi, in realtà, anche da quel punto di vista lì, girate un po', girate un po', oppure fate riferimento ad HD che vi segnala le offerte ovunque, non solo su Amazon. Certamente, io spero vadano in offerta o l'Age 30 Fusion o l'Age 30 Ultra. In quel caso, secondo me, sono due prodotti da prendere. Poi, ce n'è un altro che è il Google Pixel 6a di cui ultimamente si parla molto perché è sceso vertiginosamente di prezzo. Secondo me, stiamo arrivando un po' allo scarico delle scorte e questo potrebbe essere... Ma in realtà è un prodotto abbastanza recente, però Google sembra che stia anticipando un po' l'arrivo del nuovo mid-range del 7a o 8 che si chiamerà. Ma guardate, vi assicuro anche io che questo è un prodotto eccezionale. Poi adesso si riesce a trovare attorno ai 300. Può essere, anzi, molto probabilmente durante il Black Friday qualche store lo metterà in sconto più o meno a quella cifra. A 300 euro non ha rivali. Cioè, lo dico sinceramente. Prendetelo. Umberto lo sta usando come suo smartphone personale da qualche settimana. Tenete conto che un Marco potrebbe usare quello che può. Esatto, potrebbe usare qualsiasi top di gamma perché qui abbiamo praticamente tutto e sta usando quello. E io stesso ho appena fatto un confronto foto con altri due smartphone e nel momento in cui l'ho utilizzato assolutamente validissimo. Toggo la palla al balzo perché proprio in quel confronto l'hai messo a confronto il Pixel 6a con un altro smartphone che era l'Honor 70. L'Honor 70 secondo me è un prodotto riuscitissimo, uno dei migliori del 2022 che è stato un po' sfortunato da questo punto di vista. Però Honor 70 l'hai provato tu? Io l'ho visto, l'ho usato un pochino. È una bomba. È veramente un ottimo smartphone. Bellissimo. Molto bello anche esteticamente. Molto curato. Parte da un prezzo già interessante e ha una fotocamera sorprendente. Ha una fotocamera sorprendente e Honor, attenzione perché come dicevamo per i notebook comunque è molto attiva di solito per le offerte. I brand cinesi di solito sono molto proattivi. Questo era uscito di listino se non sbaglio 5,99 ma non c'è mai stato 5,99 è proprio il classico prodotto che viene prezzato un po' alto per dare un listino importante e poi però è soggetto a molte offerte. Quindi durante Black Friday sicuro riuscirete a trovarlo o magari in bando o qualcos'altro. Insomma tenetelo d'occhio perché Honor 70 è veramente un ottimo smartphone. Un altro brand in generale da tenere d'occhio in cui ci sono alcuni smartphone buoni su cui concentrarsi ma in realtà ecco insomma le occasioni possono essere tante è Xiaomi. Xiaomi di nuovo come dicevo i brand cinesi è già partito a destra è già partito a destra io seguo il loro canale Telegram è già due giorni che sparano offerte avevo qua la pagina e road to Black Friday esatto che sparano offerte a destra e a sinistra esatto tra i vari prodotti secondo me interessanti lo Xiaomi 12 perché è compattino è uscito già da un po' si sta parlando di Xiaomi 13 già in questo momento quindi è facile che il 12 possa essere messo in offerta anche qui poi lo stesso discorso del 6A del Pixel ovviamente parliamo di smartphone che sono quasi a fine vita ma sono ottimi al 100% parliamo di prodotti che sono usciti 6 mesi fa è un top di gamma di 6 mesi fa un top di gamma tra l'altro compattino lui lo terrei fortemente in considerazione tutta la galassia Redmi quest'anno non mi ha entusiasmato ma se li trovate con una buona offerta attorno per esempio Redmi Note 11 Pro attorno ai 200 euro cacchio è un telefono da prendere ecco e avevo segnato ancora un altro smartphone interessante il 12 Pro anche lui va verso la fine vita anche lui ultimamente ha ricevuto molte offerte si trova già con uno street price abbastanza basso se dovessero mettere un sconto di un centinaio di euro ulteriori durante Black Friday prendetelo al volo perché vale assolutamente la pena infine l'ultimo brand che vado a citare è Oppo anche Oppo molto attiva durante il Prime Day ve l'ha fatto dei begli sconti me li aspetto anche durante Black Friday Oppo non fa degli sconti diretti sul prodotto molto spesso sul sito ufficiale ma li fa dei bundle pazzeschi cioè tipo che comprate il telefono vi danno l'orologio la smart band la cover e Oppo Reno 8 tutta la famiglia Oppo Reno 8 8 Pro soprattutto grande smartphone ma anche il Find X5 Find X5 Pro anche lì prodotti che stanno cominciando ad arrivare verso la fine del loro ciclo e che potrebbero essere messi in forte sconto ovviamente sono smartphone ottimi sotto tutti i punti di vista Oppo un'altra di quelle aziende che di listino ha dei prezzi sempre un pochino alti però poi sono ottimi prodotti che nel momento in cui vanno in offerta non possono non essere tenuti in considerazione Oppo è la classica azienda da Black Friday che ha dei prezzi di listino elevati ma che ha Black Friday bisogna approfittare di questi bisogna approfittarne io non ho fatto di recente una guida all'acquisto degli smartphone quindi vi dico giusto quattro cosette a cui prestare attenzione nel mondo smartphone se volete prendere anche altri modelli che non sono quelli che ho menzionato ovviamente ce ne sono molti trovate le guida all'acquisto divise per fascia di prezzo che sono sempre aggiornate e sono sempre valide però aggiungo due cosette sicuramente io vi dico non prendete smartphone sotto i 128 GB di memoria cioè nel 2022 no anche se sono in sconto no perché poi vi pentirete le fotocamere risoluzioni alte quindi le foto pesano sempre di più le app comunque iniziano a pesare tanto anche quelle più banali e quindi alla fine poi vi trovate che tra due o tre anni ecco esatto e altra cosa occhio ai fondi di magazzino di smartphone di due o tre anni fa ogni tanto escono fuori in queste occasioni grosse di offerte però mentre sul mondo iOS Apple è diversa la questione su Android se sono smartphone di fascia media medio-bassa di due o tre anni fa lasciate perdere perché non sono più aggiornati perché ormai il mondo è andato avanti perché tecnologicamente magari sono rimasti un po' indietro ora prodotti dell'anno scorso ci stanno già di due anni fa non lo so anche perché tanti produttori su quella fascia lì magari sulle fasce di prezzo un po' più basse tendono appunto ad avere una politica di aggiornamenti più ristretta rispetto a quella dei top di gamme esatto magari già dopo tre anni due o tre anni vengono abbandonati è un peccato in questo senso non fatevi ingannare dai nomi altisonanti cioè un S20 FE per dire che potrebbe essere o un A52 che ormai è uno smartphone di due anni fa cioè due anni fa era ottimo adesso comincia ad essere esatto c'era l'A53 per dire ha più senso perché non aveva tanto senso all'inizio che costava tanto ma adesso il prezzo è sceso quindi ha sicuramente più senso tenete d'occhio questa cosa poi non fatevi tirare dalle offerte nel senso che sugli smartphone ci sono sempre offerte non dovete per forza prendere il telefono al Black Friday nel senso che comunque è facile che quelle offerte che vedete al Black Friday possano ripetersi o ci siano già state per questo motivo io vi consiglio di andare sul nostro sito sulla pagina di ogni prodotto vedete l'andamento dei prezzi nel tempo se trovate quella che sembra una buona offerta magari vi rendete conto che una settimana fa costava meno ecco occhio perché quel giochino di tirare sui prezzi e poi abbassarlo il giorno prima del Black Friday e poi abbassarlo lo fanno tutti e in generale comunque se seguite HD le offerte che proponiamo sono sempre offerte al minimo storico o comunque lo segnaliamo lo segnaliamo sempre e quindi sono offerte fuffa però sugli smartphone occhio perché è un settore è facile rimanere ingannato in più e l'ultima cosa che vi dico è non so se tu Dave sei d'accordo con me non puntate a spendere troppo poco perché tra uno smartphone di 300-350 euro e uno di 600 paradossalmente nell'utilizzo di tutti i giorni non cambia tantissimo ma tra uno smartphone uno da 150 e uno da 300 cambia tantissimo anche la stessa cosa vale per i notebook infatti una cosa che dico sempre io nella guida d'acquisto di notebook più economici dico sempre piuttosto risparmiate un mese in più mettete via due soldi in più ma cercate di comprare un prodotto dai 400 euro in su per i notebook che secondo me dai 300 per gli smartphone sì 250 sei in offerta 250 sei in offerta però un telefono che abbia un prezzo di listino attorno ai 300 secondo me potete stare più anche dal punto di vista economico perché poi magari sono soldi che risparmiate adesso ma vi tornano indietro quegli interessi dopo magari uno smartphone scarso dopo un po' vi rompe le scatole subito e dite cacchio ma è inusabile e vi tocca ricambiarlo dopo un anno invece uno da 300 magari lo fate durare due o tre esatto tra due o tre anni uno da 300 euro è ancora ok magari uno da 150 dopo sei mesi ne avete le scatole piene anche perché non entriamo nei tecnicismi ma sono tante le cose che possono influenzare e la qualità di alcuni componenti sugli smartphone bassi diciamo di fascia molto bassa soprattutto sul processore sul sistema e le memorie questo cambia tutto quindi quel limite lì dei 300 premeterò seriamente in considerazione se non potete permettervi in questo momento per carità però magari risparmiate un po' e puntate a quello ci ringrazierete più avanti va bene bene direi che è tutto e mi raccomando anche voi qui sotto nei commenti fateci sapere se avete altre idee se avete altri prodotti che avete visto magari già in offerte e volete segnalarli perché particolarmente interessanti noi vi salutiamo vi invitiamo a seguire il Black Friday su HD ci saranno una serie di articoli dove elenchiamo tutte le offerte più interessanti i nostri canali ovviamente canali social telegram eccetera eccetera il gruppo telegram con le offerte vi salutiamo e ci vediamo alla prossima ciao ciao